Grande successo per il Gran Galà dell'Atletica Agropoli. La Kermes, giunta alla sua nona edizione, anche quest'anno ha unito ospiti d'onore, istituzioni, atleti e appassionati della disciplina in un'unica serata all'insegna dello stare insieme. Ovviamente la manifestazione è stata anche l'occasione per gioire insieme per i risultati del 2018 e presentare il programma del 2019 che vedrà nuovamente Agropoli protagonista in positivo della stagione agonistica nazionale Ad aprire la serata l'inno di Mammeli, cantato dall'artista agropolese Alessia Del Verme. Un momento molto intenso e tutta la società è stata molto contenta di avere come protagonista una delle voci nostrane più belle e promettenti. Grande ospite è l'ex campionessa olimpica Gabriella Dorio. Sono stata onorata di essere ad Agropoli. I campionati junior e promesse del 2018 nella vostra città sono stati una vera sorpresa. Tutti bravissimi e un'accoglienza bellissima. Sarà un piacere tornare ad Agropoli. Non conoscevo questi posti ma di sicuro tornerò con piacere in vacanza. A fare da eco anche le parole di Tonino Andreozzi, il vice direttore tecnico della Nazionale di Atletica. Complimenti a tutti per questa serata e soprattutto per il lavoro che ogni anno la società svolge con serietà e professionalità. Un augurio per il 2019 che possa essere ricco di successi come il suo predecessore. Piena partecipazione e soddisfazione anche da parte delle istituzioni. Presente infatti il sindaco Adamo Coppola, accompagnato dall'assessore al bilancio Antonio Mutalipassi e dal consigliere comunale con delega allo sport Giuseppe Cammarota. Il primo cittadino, in compagnia di Gabriella Dorio, ha presentato ufficialmente i campionati Under 18 2019 ad Agropoli. Agropoli si conferma città dello sport, ha detto il sindaco, ed è un orgoglio essere da sostegno a queste splendide manifestazioni, vetrina importante per la nostra città e tutto il territorio. Con l'Atletica c'è una collaborazione pluriennale, sportiva e turistica e la strada tracciata ogni giorno che passa si dimostra quella giusta. Premiati infine come da tradizione gli sponsor che anche quest'anno hanno contribuito allo svolgersi dell'attività sportiva.